Come se dentro di me vivessero due personalità, lo scienziato e l'artista. E a un certo punto ho capito, ho capito che forse che nessuno mi vietava di scegliere, cioè che forse, anzi, potevo combinare le due cose, i due mondi, quindi ho iniziato a combinarli in maniera molto inconsapevole. L'arte è un canale verticale con l'universo. Oddio, quello che volete, ognuno ha il suo bisogno. Però è tra i due mondi, no? È quello estremamente terrestre e quello estremamente stellare. E quindi l'arte si infila là in mezzo e fa un po' da ponte, però è un lasso temporale molto breve, quindi ti permette di toccare un attimo e provare a capire quella cosa.